Un bonus famiglia in difficoltà del valore di 5 milioni di euro da destinare anche a chi, prima del Covid, non era indigente. Questo è uno dei provvedimenti annunciati dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, destinati a arginare gli effetti catastrofici sull'economia della crisi Covid. Il bando sarà emanato dalla prossima settimana e si parteciperà riempiendo un semplice modello telematico, corredato di un'autocertificazione di liquidità. Il bonus infatti spetterà coloro i quali non supereranno il tetto dei 2.000 euro posseduti, sommando tutti i conti correnti familiari, incrementabile di 1.000 euro a figlio. Diamo il via ai contributi per le famiglie, 5 milioni da distribuire alle famiglie che stanno rischiando di rimanere senza avere i soldi per fare la spesa e nello stesso tempo attiviamo anche il primo provvedimento che riguarda le imprese, le imprese che hanno fatto investimenti, anche lì sono 6 milioni disponibili con un fondo per rimborsare, per risarcire le imprese che hanno fatto investimenti. E' quello che voglio sottolineare che si tratta di contributi a fondo perduto, non stiamo dicendo a nessuno di contrarre i debiti e di dover pagare poi con gli interessi. E' stata annunciata poi dall'assessore Emanuele Imprudente l'approvazione di 6 milioni di euro destinati alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autonomi. Sarà dato il rimborso del 40% delle spese di investimento fino a 5.000 euro. La priorità sarà quella degli investimenti in Abruzzo. Le domande saranno a Sportello. Fino ai primi 5-6 giorni di consegna alle domande saranno considerate tutte pervenute nella stessa data. L'istruttoria sarà semplice e veloce e partirà in 10 giorni. Questi soldi che stiamo mettendo nelle tasche delle famiglie e delle piccole imprese che potranno dimostrare appunto di aver fatto questi investimenti e che servono a tenere in piedi in questa fase emergenziale la nostra economia. l'Abruzzo dà l'esempio, segna il passo e speriamo che questo esempio di capacità e di anche estrema semplicità nella distribuzione di queste risorse possa essere eseguito a livello nazionale. E' stato intanto sospeso anche il pagamento del bollo auto e confermato l'erogazione del fondo di 1.000 euro.